Ciao grandissimi e benvenuti su Fustories, oggi aggiornamento un po' triste sugli avocado e come vedete gli ultimi due che vi avevo fatto vedere nello scorso video purtroppo sono morti entrambi questa siccità, questa situazione già di difficoltà che avevano li ha portati tutti e due insomma a morire sapevo che comunque erano messi piuttosto male e come vedete ragazzi questa era la mia a boschetto e sta male, stava male e l'avevo già vista molto molto male, le radici erano completamente quasi andate e insomma tutte e due sono partiti, che dire, tanto dispiacere però purtroppo ragazzi gli avvocato sono anche questo ora questo è morto per un mio errore, quest'altro era proprio perché non era proprio così tanto resistente quindi insomma come ho detto e come dio sempre cerco di trovare piante sempre più resistenti e queste due insomma non lo erano così tanto, quindi cioè questa lo era in realtà questa lo era però sono stato, ho sbagliato io, gli ho dato quella annaffiata tra virgolette di acqua leggermente acida e gli agrumi hanno ringraziato, gli avvocato no, infatti tutta la vecchia generazione è morta e anche questo insomma era l'ultimo rimasto alla fine ci ha lasciato e quindi niente dai ragazzi noi ci si vede a un prossimo mini video sperando che sia un po' più anzi sia un po' meno triste e niente dai noi ci si vede a un prossimo mini video ciao ragazzi